I ricoverati per Covid all'ospedale Morelli sono 28 contro gli 11 della settimana scorsa, un aumento del 150% da inizio settimana, numeri inattesi dai sanitari stessi. Peraltro nemmeno i mesi estivi avevano rispettato le previsioni e i ricoveri non erano mai scesi come si auspicava, mantenendosi molto lontano dai numeri vicino allo zero che avevano caratterizzato l'estate del 2021. Nel mese di luglio, il più critico, si erano registrati 337 ricoveri scesi a 176 ad agosto e a 155 nel mese di settembre, ma con un'impennata negli ultimi giorni. L'allentamento delle regole non ha aiutato e i contagi sono aumentati, spiega la dottoressa Chiara Rebucci, responsabile del reparto Covid-19 all'ospedale di Sondalo. Non ci aspettavamo questo incremento, non in questi giorni e in tali dimensioni. I nostri pazienti sono soprattutto anziani e malati oncologici, ma ricoveriamo anche 60 anni senza particolari patologie. La domenica scorsa i pazienti ricoverati sono stati 51, di cui 30 già dimessi, mentre si è registrato il decesso di due donne.